Prendiamo atto della posizione del direttore generale dell'Ulss7 Pedemontana, Carlo Bramezza, sul delicato e complicato argomento degli infermieri messi alla guida delle automediche. In primo luogo vogliamo ricordare al direttore generale che non saranno certo quei 100.000 euro risparmiati, secondo i dati forniti dal Nursind, con questa perimentazione a far la differenza nel bilancio di un'azienda sanitaria. Con un po' di attenzione ci sono sicuramente altre sforbiciate, eppure più semplici, che l'Ulss7 può dare alle proprie spese. C'è poi una considerazione da fare sulla scelta dell'Ulss7 di mettere gli infermieri alla guida delle automediche. Questa sperimentazione è di certo lecita, ma bisogna chiedersi sempre, quando si ha a che fare con la sanità, se una scelta è anche opportuna. Sull'opportunità si sono già espressi gli infermieri e i loro rappresentanti sindacali, che hanno anche accettato di sedersi in prefettura attorno al tavolo di concertazione e conciliazione che hanno lasciato a causa delle posizioni dell'azienda sanitaria. La decisione di tirar dritto del direttore generale su questo argomento porterà di certo a un inasprimento dei rapporti con i lavoratori, in un momento di grande difficoltà per il Veneto, che si trova a navigare nella tempesta della quarta ondata del Covid. E viene da chiedersi se anche questo sia opportuno. Ma queste domande deve farsele, soprattutto qualcun'altra. Grazie. Grazie.